La speranza è che almeno questa volta possa essersi svolto tutto correttamente. Le selezioni per il reclutamento di 20 unità da inquadrare come ausiliari di sosta e addetti alla manutenzione e scassettamento dei parcometri nella città di Andria sono iniziate questa mattina sotto la stretta vigilanza della G-Group, multinazionale del lavoro che si è occupata dell'organizzazione del concorso. E il secondo tentativo di portare a felice conclusione una prova selettiva che nel suo primo svolgimento, lo scorso 3 luglio, destò così tante polemiche da provocarne l'immediato annullamento. È cambiata la società incaricata dalla Publi Parking di gestire la selezione che coinvolge 1.500 candidati. È cambiata anche la location di svolgimento della prova, non più l'hotel Ottagono di Andria, ma l'hotel Nikolaus ex Sheraton di Bari. Tutti i candidati, divisi in quattro gruppi per evitare di invalidare il loro test, non hanno potuto allontanarsi dal proprio posto, comunicare in qualsivoglia forma con gli altri candidati, utilizzare telefoni cellulari che dovevano in ogni caso essere tenuti spenti, consultare appunti, manoscritti o testi di qualunque tipo. Prescrizioni che potranno sembrare banali, ma che lo scorso 3 luglio furono in gran parte disattese, generando un caos che si risolse solo con l'arrivo delle forze dell'ordine e l'annullamento della selezione. In quell'occasione fu permesso ad alcuni candidati di entrare in possesso dei plichi contenenti i test prima ancora dell'inizio ufficiale della prova, di effettuare foto e di consultare i telefoni cellulari. La scarsa organizzazione, mostrata in quell'occasione dalla Randstad, società incaricata di gestire il reclutamento e l'assenza dei necessari controlli perché la selezione avvenisse in maniera legale, provocarono la cancellazione della prova e il suo rinvio a data da destinarsi. Molti candidati lamentarono anche di non aver ricevuto la mail di convocazione alla prova, ma di aver appreso del suo svolgimento solo grazie ai mezzi di informazione locali. Insomma, un pasticcio all'italiana che non mancò di suscitare anche aspre polemiche politiche. I candidati chiesero ufficialmente alla Publi Parking che la successiva selezione potesse avvenire sotto il controllo più rigido dei suoi organizzatori. Sembrano essere stati accontentati. Speriamo che almeno questa sia la volta buona.